Elezioni politiche, Nino Minardo del PDL e Venerina Padua del PD verso l'elezione, nel partito repubblicano il seguitario regionale Giro Calvo e il capolista. Assemblea regionale siciliana Nello di Pasquale lascia il gruppo di territorio e traghetta nella lista di crocetta lasciando i suoi fidelissimi senza la bussola. Vittoria, Gherele tra Iello e il PD sull'ex sede dei DS, a distanza di anni il PD rivendica la casa, oggi quartier generale del movimento territoriale. Comiso, nuova sede per la CNA, sabato mattina l'inaugurazione, la presenza dei vertici provinciali e cittadini dell'organizzazione di categoria. Università, la firma della convenzione esilitta il 2 febbraio, ancora 10 giorni per l'ok della facoltà di lingua a Ragusa. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Free News. Come avete sentito dai titoli, apertura di questa edizione è dedicata alla politica e in particolar modo alle elezioni nazionali. Presentate le liste in questi giorni in vista del voto del 24 e 25 febbraio. Tra i candidati blei elegibili ci sono Nino Minardo nel PDL e Venerina Padua nel PD. Sentiamo. Due parlamentari sicuri per la provincia di Ragusa. Si tratta di Nino Minardo del PDL e Venerina Padua del PD. Minardo è stato inserito al quarto posto della lista della Camera nella circoscrizione orientale e non dovrebbe avere problemi a meno di un flop da parte del partito berlusconiano. La Padua invece sarà la terza della lista al Senato. Dopo avere vinto a sorpresa le primarie in provincia di Ragusa, l'ex consigliere provinciale ha conquistato di diritto una posizione sicura. Un'altra speranza la potrebbe avere Maria Lucia Arlorefice del Movimento 5 Stelle quarta nella lista della Camera orientale. Più difficile e dunque improbabile l'elezione di altri esponenti politici blei. Primo fra tutti Innocenzo Leontini, che in occasione delle elezioni regionali ha lasciato il PDL per aderire al cantiere popolare. L'ex capogruppo del PDL all'Ars è stato inserito come quarto al Senato. Le possibilità sono piuttosto esigue. Ma per lui, politico di grande esperienza, chissà, potrebbe aprirsi anche la possibilità di una candidatura come presidente della provincia di Ragusa, sostenuto dal centrodestra. Il suo è infatti tra i nomi più autorevoli che possono essere schierati. E sentiamo in quest'altro servizio chi sono gli altri candidati della provincia di Ragusa inseriti nelle liste di Camera e Senato. Il Partito Repubblicano Italiano schiera alla Camera il segretario regionale Gino Calvo come capolista e seguito dal segretario cittadino di Ragusa Fabio Capuano. Ecco i candidati blei che sono stati inseriti nelle liste della Camera orientale del Senato. Il Partito Repubblicano Italiano ha come capolista alla Camera il segretario regionale Gino Calvo seguito dal segretario cittadino di Ragusa Fabio Capuano. Terzo è Massimo Nicastro di Siracusa. Per quanto riguarda le altre liste nelle posizioni alte ci sono Giovanni Moscato terzo di Fratelli d'Italia e Maria Lucia Lorefici del Movimento 5 Stelle, Gigi Bellassai ottavo al Senato per il PD. Di servizio tutte le altre candidature. Nel Partito Democratico Angela Barone e Gianni Battaglia sono rispettivamente quattordicesimo e sedicesimo al Senato. Sempre per Palazzo Madama Renato Omele è dodicesimo nella lista di Monti, in quota Udc. Giovanni Cultrera nel PDL è sedicesimo, Salvo Maldì addirittura ventunesimo al Senato. Nell'Odile è ottavo alla Camera in Futura e Libertà, mentre Pinuccio Lavime è sesto nell'Udc. Nella lista di Ingroia Davide Questella è dodicesimo, mentre Inzelle Gianmarco Di Cara è tredicesimo. Nella lista di Crocetta per il Senato, l'assessore di Vittoria Concettafiore è diciastettesima. In cantiere popolare, oltre a Leontini, quarto al Senato, c'è anche il consigliere comunale di Ragusa, Maria Malfa, al ventitresimo posto. E continuiamo ancora con la politica. L'ombità in vista per lo scenario politico ragusano, ma non solo. Nello Di Pasquale ha infatti aderito alla lista Crocetta, una mossa strategica che pone però diversi interrogativi. Sentiamo. L'onorevole Enello Di Pasquale abbandona territorio e aderisce alla lista Crocetta in seno a Lars. No, no, nessun errore, avete capito bene. Di Pasquale, quel Di Pasquale che aveva lasciato il PDL per creare la sua associazione all'origine politico-culturale, ma che di culturale nel tempo non ha avuto pressoché nulla. Quel Di Pasquale che già alle regionali aveva stupito con la sua candidatura a sostegno di un candidato del centro-sinistra, lo stesso Di Pasquale che solo pochi giorni dopo essere stato eletto era riuscito a portare con sé il quinto onorevole necessario per formare un gruppo parlamentare con tutti i vantaggi politici ed economici che ciò comporta, insomma quell'istrionico Di Pasquale stupisce ancora. Facile come bere un bicchier d'acqua pare essere la sua corsa politica, un alternarsi di saltelli e pirouette che nessuno riesce a seguire più e che regala di giorno in giorno sorprese inaspettate. E se il suo ingresso nella lista crocetta ha subito ottenuto il plauso dello stesso presidente, nel rispetto del miglior copione della più scontata sceneggiatura di sala, a Ragusa c'è ancora chi deve riprendersi da questa notizia. A partire dai suoi acerrimi nemici, ma adesso veri e propri compagni, che se già per le regionali avevano scalpitato non poco, adesso avranno il fumo che gli esce dalle orecchie. Ma che staranno anche mangiandosi le mani? Di Pasquale infatti andava abbattuto sul tempo e così come ha fatto il PD a Vittoria, che con qualche consigliere ha fondato il gruppo di crocetta in seno al Consiglio Comunale, lo stesso avrebbe dovuto farlo la segreteria cittadina ragusana. E invece l'etargo. Ma a riprendersi dovranno essere anche i consiglieri vicini a Di Pasquale che, trascinati dal vento del loro leader, neanche fossero Paolo e Francesca nell'inferno dantesco, hanno perso la bussola e navigano senza meta nel limbo per restare nel linguaggio di Dante, politico ragusano. Che faranno infatti questi consiglieri e simpatizzanti, finora rimasti accanto a Di Pasquale, aderiranno anche loro alla lista crocetta o resteranno tra le fila di territorio, che poi riuscirà a sopravvivere lo stesso territorio ormai orfano di padre? Interrogativi questi a cui ne va aggiunto un altro. Cosa si nasconde dietro questo cambio di casacca Di Pasqualiano? Che Di Pasquale ammissa ad un assessorato regionale non è di certo una novità. Lo potrebbe essere però la cognizione chiestagli dal presidente. Vuoi l'assessorato? E allora dimettiti da onorevole. Ma Crocetta verrebbe da chiedersi, sa con chi ha a che fare? La promessa preceduta dalle dimissioni è infatti storia vecchia. Figuriamoci se poteva cascare nel tranello proprio colui che l'ha inventato. Come risolvere allora la matassa? Innanzitutto mostrando fedeltà, che solo un passaggio la lista Crocetta poteva assicurare, e poi aspettare l'atteso premio. Essessor Rose. Restiamo ancora in argomento di politica. Dalla regione arrivano notizie di un possibile rinvio delle elezioni provinciali. Gli enti non saranno infatti aboliti ma si voterà ad ottobre per eleggere i presidenti e i consigli. Novità in vista per le province regionali siciliane. Gli enti non saranno aboliti e dunque quest'anno si voterà per rinnovare gli organismi elettivi, presidente e consigli. Probabilmente però le elezioni saranno rinviate da maggio a ottobre. La proposta arriva dal governo regionale attraverso l'assessore agli enti locali, Patrizia Valenti. In attesa dei provvedimenti legislativi, i commissari e le giunte saranno prorogate a questo punto fino a ottobre. A Ragusa dunque Giovanni Scarso proseguirà il suo lavoro, per quasi tutto il 2013. Al vaglio del governo regionale c'è anche la possibilità di tagliare i costi di questi enti. Il piano è stato esposto ieri in Commissione Affari Istituzionali all'Arse e dovrebbe compiere il primo passo domani in una riunione del governo già fissata a Palazzo d'Olean. Delle nove province, quattro sono commissariate per vari motivi o perché i vertici si sono dimessi per candidarsi alle regionali o alle politiche. Sono Catane, Ragusa, Caltanissette e Trapani. Tutte le altre andranno a scadenza naturale in primavera. Domani l'assessore agli enti locali Valenti porterà in giunta le soluzioni possibili. Lo slittamento delle elezioni è una delle ipotesi la più accreditata e la spiega l'assessore. Ma ciò che ci sta più a cuore in questo momento è capire come riordinare le province. E ci spostiamo adesso a Vittuore dove c'è una polemica in atto tra il Partito Democratico e l'ex sindaco Francesco Aiello. A proposito della casa di Via Bixio, sede storica del Partito Comunista e dei Democratici di Sinistra che dopo la nascita del PD è rimasta al movimento fondato da Aiello. La questione è stata affrontata anche da un punto di vista regale per capire a chi andrà in eredità. La casa della Discord. In questi giorni a Vittuore è scoppiata una polemica tra l'ex sindaco Francesco Aiello e il Partito Democratico. Il contendere questa volta è l'immobile di Via Bixio dove attualmente c'è la sede del Movimento Democratico Territoriale. La casa fu acquistata all'epoca dal Partito Comunista e passò in eredità al PDS e ai DS ma non al PD restando invece nelle disponibilità dell'ex sindaco. Adesso dopo sei anni si riaccende la polemica. La presidenza del Movimento di Aiello ha assunto la decisione di verificare le condizioni di consegnare l'immobile a tutti i successori del PC e dei DS in considerazione del fatto che l'atto di proprietà è intestato nella qualità propria di Aiello e al compianto professore Gravina. Adesso il PD ne rivendica il diritto per poterlo utilizzare mentre Aiello dichiara, loro stessi facendo riferimento ai fratelli Nicosia hanno lasciato quella sede dicendo che era intrisa di sangue stalinista. Nell'atto d'acquisto io ci sono, prosegue Aiello. Ecco perché la casa è rimasta d'azione democratica. Da un punto di vista legale l'avvocato Angelo Curciullo tra l'altro iscritto del PD e con un incarico del Comitato Provinciale dei Garanti sta verificando il possibile percorso che potrà essere intrapreso. Tra le ipotesi più plausibili c'è quella di restituire l'immobile a un'associazione costituita da tutte le forze ex PC ed ex DS comprese il PD oppure donarla a persone indigenti. Insomma la questione è tutt'altro che semplice e chissà che alla fine la sede storica del PC possa non essere più di nessuno. Della serie tutti la vogliono ma nessuno la prende considerato anche che bisogna pagare l'IMO e lavori per la manutenzione. E ci fermiamo adesso c'è la pausa pubblicitaria a fra poco.